Bene ragazzi, continuiamo il nostro lavoro con i monomi e rivediamo un attimo i concetti fondamentali che abbiamo già visto e magari facciamo qualche esercizio insieme. Allora, abbiamo visto che per monomio, che significa in realtà un termine, abbiamo una sequenza di numeri e o lettere, tutti moltiplicati tra di loro. I monomici sono utili perché in realtà sono il pilastro, il fondamento del calcolo letterale o calcolo simbolico, che è quello che esprime tutte le relazioni fondamentali non solo in matematica ma anche in fisica e in ambito scientifico. Quindi diciamo che sono la base del calcolo letterale o detto anche simbolico. Simbolico cosa significa? Chiuso dei simboli che rappresentano delle quantità, delle grandezze. Quindi un'espressione che utilizziamo i monomi dà in generale una regola di calco, o una regola di procedura, eccetera. E quindi una delle difficoltà che si presenta in questo ambito è quella di tradurre quello che si esprime nel linguaggio comune in simboli e viceversa. A questo scopo io vi propongo per esempio l'esercizio 57 a pagina 240 che dice traduci praticamente in simboli le frasi seguenti. Immaginate di avere A due numeri, A primo numero, B indica il secondo numero e di tradurre in simboli la seguente frase. La somma tra un terzo del primo numero e il quadrato del doppio del secondo numero, quindi la somma scrivo un più, tra che cosa? Un terzo del primo numero, quindi il primo numero A diviso per 3, più il quadrato, parentesi della seconda, di che cosa? Del doppio del secondo 2B. Quindi questo possiamo scriverlo come per esempio un terzo di A più 2B alla seconda, oppure usando le proprietà delle potenze, un terzo più 4B alla seconda. Il quadrato qui si applica sia il 2 che il B. Ok? Oppure abbiamo per esempio il 62, 62, stessa pagina, dice il quoziente tra la somma dei quadrati e il quadrato della somma di due numeri. Quoziente significa divisione, quindi ho una frazione. La prima parte è il numeratore, quindi la somma dei quadrati, quindi la somma dei quadrati, quindi sommo i quadrati diviso il quadrato della somma. Quindi attenzione all'ordine con cui appaiono le parole. Questo potremmo in teoria anche scriverlo in questo modo, A alla seconda più B alla seconda, diviso A più B tutta la seconda. Di solito si usa la frazione lunga. Possiamo anche fare gli esercizi inverso, qui, questo lo dividiamo del precedente, e prendere per esempio anche il 77, la pagina 241, dice prendi la scritta x alla terza più 4y e dice traducila in linguaggio comune. Cioè come descriveresti questa espressione? Indichiamo con x il primo numero, con y il secondo, e qui c'è quindi la somma tra il cubo del primo numero e il quadruplo del secondo. Quindi in sostanza tradurrei così, la somma tra il cubo del primo numero o di x e il quadruplo del secondo, o se preferite di y. Proviamo ancora questo, l'ottanta, dove c'è l'espressione alla seconda più A, tutta la seconda. Qui direi il quadrato della somma, cioè il quadrato che viene da qua, questo, la somma si riferisce a questo, a questa operazione, del quadrato ancora di A, questo quadrato facciamo fare in, che ne so, in blu, ecco questo si riferisce a questo quadrato, insomma di A, più, più, volevo scrivere, A stesso. Quindi se ho dato un numero, che chiamo A, questa espressione indica di calcolare il quadrato della somma. Ma all'inizio non abbiamo detto il quadrato della somma, quindi avevamo già indicato che c'era il più. Scusami solo un secondo, mi stai dicendo, scusami? Che all'inizio avevamo scritto il quadrato della somma. Certo, tra un numero più un altro, questo più effettivamente può essere sostituito con una E. il quadrato della somma del quadrato di A e di A stesso. Ok, ok, perché mi sembrava scusami che avevamo scritto somma e poi diciamo che sia il più. Sì, sì, forse è ridondante, sì, hai ragione. Ancora, ok, possiamo provare l'84. che dice, esprimi tramite una formula il perimetro P di un rettangolo avente, allora facciamo il rettangolo nostro, eccolo qua, questo rettangolo dice, calcola il perimetro P, o meglio esprimi il perimetro P, dove il rettangolo ha un lato che misura X e l'altro lato più lungo di un'unità. Quindi il lato lungo è quello orizzontale, quello verticale chiamiamolo X, e l'altro più lungo di un'unità sarà X più 1. Il perimetro quindi sarà il doppio della somma dei due lati. X più 1 è il primo lato, più X è il secondo lato, quindi avremo due, X più X posso sommarlo, sono due monomi simili, poi rimane uno, e qui devo fare il doppio. Ok, quindi viene, anzi no, questo lo vedremo quando lavoreremo con i polinomi, due volte 2X più 1, questo è il nostro perimetro. oppure ancora l'85, che dice, in un rettangolo la lunghezza della base supera di 5 cm quella dell'altezza. Abbiamo sempre il rettangolo. Oh no, scusate, questo mi è venuto storto. Quindi abbiamo la base B e l'altezza H, quindi dice che la base B supera di 5 cm, quindi è l'altezza più 5, supponiamo di esprimere tutto in centimetri. dobbiamo esprimere l'area A del rettangolo. Allora, l'area A si calcola moltiplicando la base per l'altezza. E dobbiamo esprimerla in funzione della lunghezza B della base, oppure H dell'altezza. Quindi, qui posso sostituire a B H più 5. Quindi ho H più 5 per H, oppure se preferite H per H più 5, e questo mi dà l'area in funzione dell'altezza. Oppure, posso dire che se B è uguale ad H più 5, H sarà B meno 5. L'altezza sarà 5 cm più piccola della base, per cui l'area potrei esprimerla come la base per B meno 5. Sono le due opzioni. La prima, H per H più 5, oppure la seconda, B per B meno 5. C'è una domanda, prego. Volendo, si può pure mettere B meno 5 per H più 5? No. In questo caso no. Perché... Ma sarebbe B meno 5 per H più 5. Sì, ma qui ci chiede, attenzione, l'esercizio dice scrivi la forma che esprime l'area in funzione della lunghezza B della base. Prima opzione. Quindi c'è il versetto che c'è solo B. Quindi questo risponde alla prima domanda. Nell'altra, in funzione solo dell'altezza, quindi H per H più 5. Se vuoi fare un misto, possiamo scrivere come... che ne so, H, ok? E B meno 5, se è possibile. Però non era delle richieste. Ok. Non so se ho capito bene la tua domanda. Ancora uno, volevo proporvi. 87. Dice se X è la mia età. La mia età adesso. Cioè in quest'anno. Allora, esprimi la forma che... Trovo la forma che esprimere l'età che avevo due anni fa. Quindi, opzione A. Aspetta. Due anni fa. E qui la chiama E1. Che sarà ovviamente X meno 2. Dall'età attuale tolgo due anni. Oppure B. L'età che avrò tra... Tra tre anni. E la chiama E2. Che sarà X più 3. All'età attuale. Aggiungo tre anni. E poi C. S è la somma tra il doppio... Il doppio della mia età attuale. Cioè di adesso. E il triplo... Dell'età... Che avrò tra tre anni. No, tra due anni, scusate. Tra due anni. Quindi S vale... Il doppio dell'età attuale. Quindi due volte X più... Il triplo, tre... Dell'età che avrò tra due anni, che è X più 2. Quindi... Ho 2X più il triplo di X. Poi devo moltiplicare... Questo non abbiamo ancora visto, ma abbiamo 3 per X, ma anche 3 per 2. Perché vale la proprietà distributiva. Quindi 3X più 6. Quindi in totale S vale 3X più 2X che fa 5X più 6. Quindi... Vittimi, se ci sono domande... Se no, scelgo un altro esercizio. Per esempio... Per esempio... Ecco qui, proviamo. Questo esercizio... Il... Proprio al 140. A pagina 246. Dà dei monomi e dice di scriverli in forma normale. Abbiamo 2X... Questo monomio non è espresso in forma normale, perché ci sono due coefficienti numerici e due lettere che sono esatte identiche. Per metterli in forma normale, i coefficienti vanno moltiplicati 2 per 5 che fa 10 e X per X che fa X alla seconda. Quindi ogni lettera appare una sola volta con l'esponente adatto. Quindi 10 è il coefficiente numerico, X alla seconda parte letterale. Questo è di grado... Dichiamolo qua di grado 2. Perché l'esponente di X è 2. Poi proviamo quest'altro. 8XY3Z. Qui ho 3 per 8 che fa 24. XYZ. Qui le lettere sono diverse, quindi non posso sommare gli esponenti. Però il grado è 3. Perché l'esponente... Il grado del monomio è la somma dei suoi esponenti delle parti letterali. E poi c'è ancora 1, 3, A, B, 2, A alla seconda. Qui per scriverlo in forma normale ho 3 per 2 che fa 6. A per A alla seconda che fa A alla terza e poi ho B. Questo è di grado 4. Perché devo sommare 3 più 1. Quindi qui ho fatto lo scrivere. Forse un poco meglio qui ho 1, 1, 1. La loro somma fa 3. Qui ho 3 e 1. La loro somma fa 4. E così via. Poi si potrebbero fare anche gli esercizi da 144 a 146 che comunque chiedono il grado del monomio. E abbiamo visto anche come si calcola. Piuttosto proviamo... Ad esempio, ecco l'espressione con i monomi. Se riusciamo a fargli un paio io comincerei dalla 184 a pagina 249. Semplifica la seguente espressione. C'è x alla seconda meno xy più tonda meno un terzo x alla seconda chiusa tonda meno di nuovo tonda meno due terzi xy meno sette terzi xy chiusa tonda meno vado a capoliga meno tonda meno xy più un mezzo x alla seconda meno un sesto x alla seconda ok qui abbiamo nella prima parentesi c'è solo un monomio quindi avendo davanti il segno più il segno meno si mantiene nella seconda parentesi invece abbiamo due monomi che sono simili hanno la stessa parte letterale quindi possono essere sommati ok e dopo fuori delle parentesi abbiamo altri monomi simili ma li sommeremo dopo quindi qui abbiamo x alla seconda meno xy qui la parentesi la tolgo viene meno un terzo x alla seconda qui il meno non lo lascio dentro la parentesi sommiamo abbiamo il denominatore comune che è 3 che è lo stesso qui ho il numeratore ho meno 2 e meno 7 la parte letterale la scrivo un solo una volta alla fine della frazione meno meno xy fa più xy poi ho più un mezzo x alla seconda e meno un sesto x alla seconda ok qui attenzione abbiamo il meno xy e più xy che possono essere semplificati perché sono monomi opposti quindi direttamente li cancello cancello solo ciò che dà 0 attenzione quindi poi mettiamo in ordine abbiamo x alla seconda meno un terzo x alla seconda poi viene dove era la meno nella parentesi tonda viene meno 2 meno 7 che fa meno 9 terzi xy e poi ho più un mezzo x alla seconda e meno un sesto x alla seconda qui 9 e 3 possono essere semplificati qui fa 1 e qui ho 3 e anche il meno dentro poi il meno fuori questo meno e meno fa più quindi avremo x alla seconda meno un terzo x alla seconda più 3 xy più un mezzo x alla seconda meno un sesto x alla seconda ok quindi potrò sommare tutti i monomi simili che sono tutti quanti a parte l'xy quindi questo questo monomio questo e questo sono sommabili sono tutti simili per sommarli trascrivo i coefficienti e poi metto un x alla seconda all'esterno quindi ho x alla seconda da 1 meno un terzo più un mezzo meno un sesto x alla seconda e poi mi avanza il più 3 x y poi che fosse chiaro che questo da 1 questo da meno un terzo meno un mezzo e meno un sesto ok qui il nostro minimo comune multiplo è 6 e 6 per 1 fa 6 meno 6 diviso 3 2 per 1 2 qui ho più 3 e qui ho meno 1 quindi qui abbiamo una possibilità di semplificare perché ho 3 meno 2 meno 1 che fa 0 qui mi rimane 6 sesti x alla seconda più 3 x y i 6 sesti si semplifica quindi x alla seconda più 3 x y quando il coefficiente è 1 non si mette quindi questa l'espressione si semplifica in questo che è un binomio perché ho due monomi sommati tra loro non simili non posso sommarli quindi rimangono così come sono quindi il risultato mi dà un binomio ok se non ci sono domande passerei a un esercizio dove potremmo fare dimmi in quel caso non diventa 3 3 alla terza y perché c'è il più in che senso 3 alla terza non c'è nessun 3 alla terza no 3 x alla terza in quel caso non diventa 3 x alla terza perché c'è il più ah certo tra i due monomi c'è una somma e quindi non posso moltiplicarli non posso fare il prodotto di questi due farei il prodotto se ci fosse una parentesi ma non c'è vediamo un esempio di esercizio con ripeto la moltiplicazione per esempio vediamo l'esercizio boffiamo questo il 201 a pagina 251 e c'è il primo monomio è tonda meno 5 x alla terza y z chiusa per più 2 x y z la seconda chiusa ma qui il prodotto tra due monomi dà sempre un monomio e per prima cosa si fanno il prodotto tra le parti numeriche tra coefficienti numerici quindi meno 5 per 2 meno per più fa meno 2 per 5 10 poi ho x alla seconda scusate x alla terza per x quindi sommo gli esponenti e ottengo x alla quarta poi c'è y per y che fa y alla seconda e z per z la seconda che fa z la terza ok quindi questo è un monomio di grado 4 più 2 più 3 che fa 4 più 2 e 6 e 3 e 9 di grado 9 proviamo in un altro magari con coefficienti frazionali proviamo l'esercizio 204 abbiamo un mezzo a alla terza b alla seconda c per meno 4 terzi a b c alla terza qui abbiamo più per meno che fa meno un mezzo per 4 terzi poi a alla terza per a fa a alla quarta b alla seconda per b fa b alla terza c per c alla terza fa c alla quarta qui possiamo semplificare il 2 e il 4 e ci rimane come coefficiente meno 2 terzi quindi meno due terzi a alla quarta b alla terza c alla quarta e questo è di grado 11 4 più 4 più 3 vediamo ancora uno vedere quando vuole farne una con una divisione no prima con le potenze ok proviamo questo esercizio 247 la pagina 253 dice calcola questo tonda più 5 quarti a alla terza b c la seconda chiuso tutta la seconda ma qui si usa la proprietà delle potenze cioè il quadrato è applicato a tutti i termini dentro la parentesi devo levarli tutti alla seconda quindi viene fatemelo fare molto lentamente 5 quarti alla seconda per alla terza ancora la seconda per la seconda per c la seconda ancora la seconda vi ripeto il quadrato si applica si applica a tutti i termini dentro la parentesi e quindi abbiamo 5 quarti alla seconda fa 25 sedicesimi sempre quel più a molti motivi con gli esponenti 6 a alla 3 per 2 che fa 6 b alla seconda e c alla quarta proviamo ancora questo l'esercizio 250 qui ci sono graffa meno 2 quadra meno tonda meno x chiuso la seconda chiuso alla quadra chiuso alla terza qui bisogna stare attenti ai segni ok andiamo per gradi questo 2 cancella questo segno quindi qui dentro mi ritrovo un meno x alla seconda poi ancora la quadra chiuso ancora la terza qui ho un esponente pari che cancella questo segno lo fa diventare più quindi qui viene sempre meno 2 e qui viene x alla quarta il meno non lo metto dimmi nel 250 non sono tipo alla terza la seconda la seconda e non alla seconda la seconda e la terza ho fatto il secondo ah ok ho dei tre delle tre opzioni ho fatto quella in mezzo giusto per farne una vedi che sono tre ok vado alla quarta poi chiuso alla terza qui ho l'esponente dispari e questo segno rimane e perché qui all'interno dell'espressione questo quadrato cancella questo segno ma non questo vi ricordo che qui c'è un per quindi ripeto meno 2 alla terza meno 2 alla terza per x alla quarta alla terza quindi ho meno 8 per x alla 3 per 4 12 ok attenzione ai segni attenzione agli esponenti pari e dispari quindi volevo provarne uno ancora con se lo trovo con delle divisioni eccolo qua chiediamo l'esercizio facciamo questo il 299 appare 256 dice tonda meno 2 terzi a b la seconda c alla quarta chiusa diviso tonda meno 4 terzi a b alla seconda c allora qui abbiamo per dividere i monomi si fa la divisione prima tra le parti numeriche quindi meno 2 terzi diviso meno 4 terzi quindi abbiamo meno 2 terzi diviso meno 4 terzi e poi ho una frazione dove se preferite possiamo scriverla anche così al numeratore o a b la seconda c alla quarta il denominatore o a b la seconda c questo questo va sopra e questo il dividendo va sotto allora qui abbiamo meno diviso meno che fa più 2 terzi diviso 4 terzi cambio la divisione di moltiplicazione e qui fa 3 quarti questi si possono semplificare 3 fa 1 e qui ottengo un mezzo dopodiché qui abbiamo possiamo applicare le proprietà delle potenze alle singole lettere quindi abbiamo a diviso a prego perché meno 4 terzi diventa 3 quarti non dovrebbe rimanere il meno no perché meno diviso meno fa più questo lo metto in evidenza scusami solo un secondo ecco questo meno diviso meno insieme fa più allora per quanto riguarda le lettere invece ci comportiamo usando le proprietà delle potenze quindi qui ho a diviso a che fa a alla 0 b la seconda diviso b la seconda che fa b alla 0 e poi c alla quarta diviso c fa c alla terza quindi questo diventa 1 questo diventa 1 rimane c la terza quindi in totale ho più un mezzo c alla terza oppure più semplicemente potremmo anche dire beh io semplifico a con a b la seconda e b la seconda e questo 3 di questo 4 diventa 3 questo va via tutto però questo è la tale lavoro che c'è sotto vediamo se proviamo a farne un altro proviamo questo qui questo è il 2,98 attenzione a questo meno 3 mezzi ok facciamo ancora questo e poi ci fermiamo mettono 3 mezzi x alla terza y alla quinta diviso 5 quarti x y alla seconda z quindi qui abbiamo meno 3 mezzi diviso 5 quarti che fa meno diviso più che fa meno 3 mezzi per l'inverso 4 quinti poi ho x alla terza y alla quinta x y alla seconda z quindi qui ci rimane il 2 e il 4 si possono semplificare ma il resto no il 3 e il 5 rimane quindi ho meno 3 per 2 6 5 e 1 5 poi ho x alla 3 meno 1 che fa 2 y alla quinta diviso y alla seconda fa y alla terza però rimane uno z denominatore questo z rimane quindi questo attenzione non è un monomio una frazione algebrica perché questo z non ha corrispondente al numeratore quindi non posso semplificarlo quindi il risultato non è un monomio ma una frazione ok adesso direi che possiamo fermarci non è un monomio